Ciao ragazze, nuovo video outfit, vi faccio vedere l'outfit di oggi che è Santa Stefano e questo è un outfit per andare a casa di amici, quindi molto easy per modo di dire ho deciso di mettere gli occhiali oggi e di fare un rossetto nude anche se sono già pentita del rossetto nude perché non mi fa impazzire però non volevo caricare, siccome l'outfit era già di per sé abbastanza estroso cioè nel senso abbastanza vivace non volevo caricare anche le labbra per non fare un effetto troppo truccato e quindi ho messo gli occhiali appena lavati i capelli e asciugati sono un po' come si dice, che vanno un po' per i fatti loro ho messo gli occhiali appunto nuovi che avete già visto ho fatto un trucco con la nuova palette, la palette di Zoeva che mi è stata regalata dalla sorella di Simone ho fatto questo trucco nude utilizzando dei toni molto scuri, sfumati e mi piace tantissimo con l'eyeliner marrone, la matita marrone e il mascara nero quello di, non mi ricordo mai, quello ciglia di farfalle l'abitino questo qui rosso ce l'ho dall'anno scorso, non l'ho mai utilizzato è un abitino in ceniglia con questo dettaglio di tutte le perle sulla parte del corpetto e questa camicia che sbuca bianca, ovviamente è parte integrante del vestito sia nella manica che sopra con il colletto è un outfit molto natalizio questo Simone ha detto che sono vestita da Babbo Natale Simone non è mai contenta degli outfit che faccio? Gli tirerei due pugni e lo lascerei lì secco, ve lo dico sinceramente è un vestito carino, per andare a casa agli amici, scusate ai piedi ho deciso di mettere, li faccio vedere così questi stivaletti molto carini che sono neri con tutto il pelo che esce e di solito li metto sempre sotto Natale li utilizzo spesso proprio sotto Natale li avevo anche un paio di anni fa con un vestito di ceniglia sempre di velluto Borgogna orecchini questi qui dorati niente di esagerato la borsa questa che ho preso dalla soffitta è una borsa rigida nera che secondo me ci sta abbastanza bene è una borsa sobria e sopra non sono ancora convinta però penso che li utilizzerò la pelliccetta volevo usare la pelliccia rossa la metterò nei prossimi giorni perché non ho ancora in mente un outfit per quella pelliccia sopra ho messo il pellicciotto che ha su cappuccia e niente ragazzi spero che il video outfit vi sia piaciuto un outfit carino proprio molto semplice non è semplicissimo però molto adatto secondo me a queste feste tra l'altro oggi non è neanche una giornata fredda quindi c'è un bellissimo sole quindi quasi una giornata primaverile spero che il video outfit vi sia piaciuto aspettate a leggere tutti i vostri commenti scappo perché è tardi ci vediamo nel prossimo video ragazzi ciao